Oggi mercoledì 25 ottobre una scossa sismica di magnitudo stimata tra 4.2 e 4.5 sulla scala Richter ha colpito la provincia di Rovigo. Questo evento è stato avvertito anche nelle regioni circostanti dell'Emilia Romagna e del Veneto e secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sta monitorando la situazione. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a soli un chilometro da Ceneselli con una profondità sismica di 8 chilometri. La scossa è avvenuta alle 15.45. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o beni. Tuttavia i report sui social network indicano che l'evento sismico è stato percepito non solo nella provincia di Rovigo ma anche in altre parti del Veneto, inclusi i territori di Varese, Padova, Venezia, Treviso e persino nell'Emilia Romagna.